Giuliano continua a prendere fuoco dopo il maxirogo di ieri che è interessato zona di Casa Celle alimentato da materiale di risulta nocivo per l'ambiente. Un nuovo enorme focolare è stato domato in via Madonna del Pantano nei pressi di una discarica abusiva. In una terra martoriata dai rifiuti e dai tumori l'ennesimo incendio di materiale d'altamento tossico ha tenuto in apprensione la popolazione. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine nei nostri microfoni il capo squadra Gianluca Plata dei pompieri di Montruscello e Antonio Baldi comandante della polizia municipale di Giuliano. Durante i giorni si ripetono diversi roghi di rifiuti di diversa entità diciamo che quelli urbani nel contesto urbano sono sempre meno quello che vanno nelle aree circostanti aree più periferiche e ne sono ancora un numero significativo. Sono dati pubblici, sono stati stampati qualche giorno fa sulla stampa nazionale. Noi ci possiamo limitare ad intervenire una volta che il rogo è avvenuto negli ultimi tempi stiamo intensificando la repressione dello scarico dei rifiuti fuori orario ma più di tanto non è che si riesce a fare. Tenuto pure conto che l'organico della polizia municipale di Giuliano è fortemente sottodimensionale. Siamo ad un quarto della forza praticamente.